E' stata effettuata una nuova intimidazione ai danni di Ida Gattuso, sorella dell'ex calciatore Rino ed attuale allenatore dell'Olympic Marsiglia. Dopo l'incendio dell'auto avvenuto il 17 ottobre scorso, i gnoti hanno dato fuoco anche alla seconda vettura della donna, un SUV Opel Grandland. L'auto, che è stata completamente distrutta dalle fiamme, era parcheggiata sotto la sua abitazione nella frazione di Schiavonea a Corigliano Rossano e nessun dubbio hanno gli investigatori sulla natura dolosa dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno avviato le indagini su questo secondo episodio criminale. La donna in passato è stata consigliere dell'allora comune di Corigliano Calabro prima della fusione con Rossano.